Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a Te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo. O Padre che ci hai nutriti con i Tuoi santi doni e con la morte del Tuo Figlio ci fai sperare nei beni in cui crediamo, fa che per la risurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Dio che nella passione del Suo Figlio ci ha manifestato la grandezza del Suo amore, vi faccia gustare la gioia dello Spirito nell'umile servizio dei fratelli. Amen. Cristo, Salvatore che ci ha salvato con la Sua croce dalla morte eterna, vi conceda la vita senza fine. Amen. Voi che seguite Cristo, umiliato e sofferente, possiate aver parte alla Sua risurrezione. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Testimoniate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Io, sei l'unico fiore, nato dall'umanità. Tu ci sai capire. Date ogni grazia per dar. Maria.